Quarta corsa del pomeriggio premio la Blasti Rock, terza prova a seguire riservata ai tre anni, sono in otto al via col numero uno Jinx Enrico Bellei, col due Diamond JVS Antonio Di Nardo, il tre Danilo Jet, Giampaolo Minucci, il quattro Diva Mail, Gabriele Quarnetti, il cinque Darline Staff, Paolo Pietro Paoli, il sei Dharma Marco Jet, Giusy Savarese, il sette Dora Clemar, Romolo Sera, questi in prima fila, da solo in seconda fila con il numero otto Dylan Criss con Dario Battistini, cento metri allo stacco della macchina, Di Galoppo Jinx e Dora Clemar e anche Dharma Marco Jet, Lottano in quattro su di una linea all'interno Diamond JVS attaccato a fondo da Darline Staff, poi ha ripiegato Danilo Jet davanti a Dylan Criss, il lancio che va via in 13.6 per Diamond JVS, sbaglia in curva Danilo Jet, allora la metà dei protagonisti sono stati vittime di errori, restano soltanto in quattro, con Diamond JVS che comanda dopo un quarto in 29.2, seguito da Darline Staff, Dylan Criss e ancora Diva Mail, cerca di inseguire il solo Dharma Marco Jet, che ha perso molto terreno, ma insegue nel tentativo di ricongiungersi. Ha rallentato vistosamente il favorito Diamond JVS, sfruttando l'assenza degli avversari, si ricongiunge, Dharma Marco Jet in coda al quintetto e prende anche la via del largo, mentre il leader completa il secondo quarto addirittura in 33.5, metà gara in 1.3 per Diamond JVS, sbaglia ancora, Dharma Marco Jet sposta Dylan Criss, che va su Darline Staff e cerca di prendere contatto con il leader che completa il primo giro in 1.17.8, l'attacco deciso di Dylan Criss a Diamond JVS che reagisce, poi Darline Staff e Diva Mail. Parziale violento ora con il quale Diamond JVS replica a Dylan Criss, parziale in meno di 14 per i due, con Diamond JVS che replica a Dylan Criss e poi Darline Staff e Diva Mail. Diamond JVS che sembra in grado di svincolarsi da Dylan Criss, poi Darline Staff e Diva Mail. Diamond JVS in vantaggio su Dylan Criss e al cui interno c'è Darline Staff nel finale. Diamond JVS che si conclude facilmente, ottiene la quarta a seguire davanti a Dylan Criss e Darline Staff che concludono perfettamente appaiati per la piazza d'onore. c'è ancora un 29.5 per il quarto finale, 2-1-4 sul mio cronometro per la quarta a seguire del Sauro da Oro Puro Bar. Antonio Di Nardo Insalchi, Gennaro Casillo al treni, in coloro del signor Gaetano, Donnarumma. 1-15.9 si è confermata la media per il vincitore. vediamo per il secondo che sono davvero in linea, Dylan Criss all'esterno e Darline Staff all'interno. Quindi 2 e poi fotografia 8 e 5 per la piazza d'onore, questo alla quarta di Capanelle. Grazie.